Aveva suscitato polemiche e scalpore la decisione degli scorsi giorni dell'Asla Napoli 1 di sospendere il servizio di elisoccorso di Salerno con base a Ponte Cagnano e in servizio anche nella Villinese e nel Beneventano. La motivazione era il bisogno di potenziamento del soccorso nell'area di Napoli e soprattutto di Capri. Dopo questa scelerata decisione però è scoppiata la polemica sull'incomprensibilità di una tale scelta, sulla scelta di aver privato Cilento Costa d'Amalfi, Irpinia e Sagno, di una tale risorsa sanitaria fondamentale nel caso di Codici Russi. Dopo la diffusione della notizia, a quanto pare la regione Campania ha deciso di annullare questo provvedimento preso dall'Asla Napoli 1. Nonostante l'assenza dell'eliambulanza dalla base di Ponte Cagnano da già diversi giorni, l'ente regionale tramite un comunicato ha annunciato la permanenza dell'elisoccorso nella città del Salernitano. In merito alle notizie diffuse da alcuni organi di informazione, si conferma che l'elicottero del 118, destinato alla copertura delle richieste di pronto intervento per la zona sud della regione, continuerà ad avere come base operativa l'eliporto di Ponte Cagnano, una strana gaffa quella degli enti regionali che molto probabilmente hanno capito il possibile danno causato agli abitanti campani solo dopo aver emesso il provvedimento.